Repubblica italiana in nome della legge, noi professor Pier Ugo Calzolari, rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, veduta la deliberazione della Facoltà di Lettere e Filosofia nell'adunanza del giorno 22 ottobre 2004, veduta l'approvazione del signor Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proclamiamo Martin Scorsese, nato a New York il 17 novembre 1942, dottore ad onore in cinema, televisione e produzione multimediale e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti di legge dato a Bologna il 26 novembre 2005. Grazie